ci vuole tregati da extra oggi siamo su league of legends e un non lo sa lì ehi hai letto è quelle che ti piacciono fare a te no hai detto quello che ti credo di te che vorresti fare cosa non entrare no you shall not pass cosa ne pensi dei gatti che sono troppo bucciosi cosa ne pensi delle elene le elene sono molto belle molto belle le iene davvero che di che sono belle ok le iene dici tu le animali animali si le iene ah penso le elene vabbè le elene si sono molto belle no le iene no non mi piacciono molto perchè si ghignazzano ma che ridi cosa ridi ma che ridi basta ok ok mi hanno detto hai noto che io sono uno squalo robot dove? io sono uno squalo robotico dove? sul mio stemmo delle vocature proprio squalo robotico tattico col thunderbolt blu quindi energia lo squalo che ti mangia il tuo papione con la tua rosa io sono una roba cuori no elna non hai capito gli stai miei vocatori per esempio tu sei quello jayce con il fiore rosa roba cuori guarda che c'era pure il zreal ho capito ma dico io ero un aspetta oddio e cosa sono queste cose? prendi un solo livello veloce adesso schiacciati tutti gli oggetti prenditi una build normale ma che cazzo we don't talk anymore we don't talk anymore ok adesso non possiamo comprare per meno niente noi andiamo top quindi usa la A su questo punto A ah la 4 il tp ah appena posso ma che cazzo e loro dove si tipizzano qua no loro so loro si devono difendere noi dobbiamo attaccare ok e come faccio? quindi noi siamo quelli che attaccano andiamo top sì ma che abilità possiamo prendere? quando possiamo prenderla cosa? abilità beh si levelappano da sole ma cos'è questo cerchio cos'è? cos'è che fa? qua praticamente ci sono i milioni nemici no? e quando 15 milioni nemici entrano in questo cerchio diciamo che è una specie di torre ma perchè qua è più buio perchè non esiste c'è solo questa parte della mappa che conta figo e praticamente quando 15 milioni nemici entrano in questo posto visto sparano i milioni da qua se 15 milioni nemici entrano in questo posto sparano un razzo da qua a qua in tutte le lane e chi di noi sta dentro ci moriamo veigar con la skin non c'entra quello è il fatto e il fatto è che io sono da vicino stai dietro vabbè però da vicino faccio un botto di danni no ok si ma i milioni danno soldi si non ricordo si si se no come facciamo oh ma c'erano loro non c'erano non c'erano poco poco più sci 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 o ma possiamo farlo anche noi questo quando difendiamo si può pericolare comunque ma non ancora aspetta aspetta vabbè uno ricollo all'altro ave tanto loro difendono ma ah ma appena si carica 15 minore ma non c'erano cos'è puoi comprare roba ho capito ma tu io io vengo e tu ricolli si vai ricolla e comprati no no ricolla ricolla non ti serve non ti serve i gold sono automatici vai e compra quello che ho comprato anch'io ho comprato un coso mi sembra no non ho comprato un scema vabbè io continuo con la mia guida we don't talk anymore e cos'è che posso prendere we don't talk anymore balista d'assedio stendardo dall'avanguardia balista d'assedio balista d'assedio comprata cosa devo fare cos'è come come si usa fai dopo vedrai vieni 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 c'è una balista posso farlo ok questa balista aspetta ok thank you dov'è che la metto ok va bene comunque dimmi dove devo metterlo mettila pure qua mi c'è spuglia mamma loro non la spaccano eh metto qua no devi arrivare alla torre ah deve arrivare vicino alla torre praticamente l'attacco no ma io non posso lo difendere no devo difendere quelle problemi oh questi sono i minion come sono i minion mancano pochi i minion e poi esplodiamo ma come fanno a loro cioè non ho capito quali sono i minion e quello è bello i minion sono i minion semplici se entrano in questo ora in questo range in questo cerchio allora aspetta cosa faccio? piattaforma di trasporto totem e scudo totem e scudo e la per la valata la valata la valata la valata vedi dove ho messo io qualcosa cosa cosa alt'attacca questa uccidina allora ho detto la vala e di la fq metterà qua mentre qua metti la anche con l'altro dove mettersi poi poi mamma e mora ma ma non può niente badania la torre ma non ho fatto niente ma pochissimi teoricamente se la scena dovrebbe se hai tipo un attore infernaile di eh cino no no non tato no non tato no non tato è notata non tato non tato autotone no esplosione primordiale 500 c no capito ti ero quella ultima no ho usato tutti cioè 2 dai sì 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 arriva aria oddio sto lagando oddio sto lagando cosa 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 perché ho messo tre quale è la cosa quando i miei arrivano quindici tipo c'è una big bomba quella quella slash quello che ti ha fatto e mi ha colpito una volta no quello no quello è un'abilità abbiamo ancora sei minuti se 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 quello è quello che di qui ti dicevo ah e questo ai 15 si adesso capisci ma qual è quello che va più danno al centro dove cosa quando lo è noi che noi per andate pure niente di aiutare 30 ops scuola dopo ad entrare troppo ebbè non lo facciamo come pure ho fatto entrare tanti basta che doggie oh oh ok ma cos'è la F fammi capire ah da uno scudo ok guarda guarda cosa sto facendo è la boom grazie 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 voleva strunarmi quel vicar cattivo grazie 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 questo Swiss grazie come praticamente dobbiamo difendere noi e tipo divertente perché le abilità islaminti diverse che bello fammi capire dopo questa abbiamo finito la partita oppure c'è l'altra parte dove dipendiamo noi come ho detto dobbiamo difendere noi poi abbiamo finito se io mettersi questa qua e questo qua e fori ma io sono trasgressivo eh non puoi cdmdc tommi oddio ma mi veda oh mio dio mi veda ho fatto un botto di daniela torre con il mio coso che ancora spara ma il mio coso sta ancora sparando ho ancora sparando non mi sono anch'io ok ho distruttato la ricorta no si ho ucciso la torre hai ucciso madonna mia è diventata una persona la torre ti vengo a salvare minchia scherzavo giuro no au revoir au revoir no caccio non ho concreto quelli che vengono cose nuove no no ma no problem dove si vede in frammenti ah ecco 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 by the way ok 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 io non sì che è in mondo ma non se posso utilizzare qua no ok 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 night night scuola per part volendo valuto non poter non Praticamente quanto tempo ci mettiamo noi a buttare giuste cose, altrettanto tempo dobbiamo difendere. Quindi abbiamo vinto. Dobbiamo difendere. Cioè per quanto tempo ci mettiamo noi allo stesso tempo dobbiamo difendere. Quindi un quarto buono. Se ci abbiamo messo tanto non credevo. Davvero non hai provato questo, non hai mai fatto questa modalità? Non è divertente? Sì. Madonna dei medici. Arriva, 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 arriva. Help me. Help me. Ehm, sei stupido. Ho fatto una cazzata. Vabbè ma non avevo preso i cosi. Ma posso prendere due... Due baliste. No. No. Vabbè prendo anche un del trasporto va. Vabbè prendo anche un del trasporto va. Ma è il nostro lo scudo. Nemici. Aspetta che metto là. Che metto questa. Voilà. Anzi. Aspetta un secondo. Ma guarda che dovevo messo il TP. Good job. Good job. Vabbè. Ok adesso facciamo cambio. Dobbiamo difendere allo stesso tempo. Io con chi ho fatto cambio? Con Tristana. Tu con chi hai fatto cambio? Io con Vega. Coincidenze? Io non credo. Ma do tutto da capo. Cioè pallo ho fatto già una build. Che era madonna che c'è schifo. C'è schifo. Adesso qual è quello che abbiamo fatto? La torre raggio della rovina? Sì. Per difendere. È la cosa che hanno fatto quelli prima. Ok. Dove andiamo sempre top noi. Tra? Poco. Io già lo spammo. Senti. Sono contenta che mi piace la nuova modalità. Eh? Sono contenta che mi piace la modalità. È bellissima minchia. Andiamo. Sono il primo. Seconda. Ehi. Quindi fammi capire. Se io faccio D. No non farlo adesso D. No lo so ma dico. Se io faccio D. Se fai D prendi il controllo della torretta e puoi sparare. Ora però fammi capire. Quindi ora dobbiamo noi fare arrivare il minion là. Sì. E se li facciamo arrivare? Cosa? Ah se li facciamo arrivare si trasportano là. Ah se li facciamo arrivare. Se li facciamo arrivare quindi ci succede la cosa del raggetto. Cioè? Che lancia una cosa in tutta la lane. E esplode tutte le persone che stanno. Blah. Ma dobbè. Ah quindi adesso fa poco al contramodò 14 minuti. Vabbè mi lo sappiamo il tempo che manca per vincere. Riusciamo a difendere abbiamo vinto. Non so. Ma se perdiamo dobbiamo fare un altro purtroppo. No se perdiamo abbiamo perso e basta. No noi proprio perso. Quindi una iella. Starei con me la difesa ultima. No. Minchia. We're not back anymore. Dammi quello della Q. Dammi la Q. Dammi la Q. Questa è la W. No. Q. Tieni. E che devo farmare. Oh. Minchia. Vuoi provare a fare la D? Scusami. Io me ne pu... No. Voleva. Cos'è il 4? Ah il 4. Ma... Ma... Prendo la torretta? Clicca su D. Eh faccio D ora. D. Vai. Vai. Ecco. No non posso sparare. Dannazione mancava pochissimo. Ci sono tre colpi. Bravo. No non mi sento... Dove pensi di fare la W? Guarda oddio. Due secondi. Vedo veloce. Per te io. Il brigati. Io non ce la faccio da solo. Lo so. Di scioglie. Vuole fa. Osa. E come 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 come. Guarda qua. Ricolare collare 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 colla. Ho visto. Però non morirci no. Ricolare collare 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 colla veloce. Sennò tu ci muori. Ma tu te ricolla. Un brigolo subito. Vai 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 vai. Vai. Precisamente dieci minuti anzi dodici minuti precisi. Eh so rigabbo. But you know I love you. Noi lo li scetti tutti. Con la... Adesso ci penso io Anna. Stai transi. Ci penso ad Arix. Vabbè appena tipo arrivano qua. E mi non io l'ho fatto. Comunque ricordo di comprare le cose. Vuoi vedere una cosa divertente? Ho comprato. Oddio ma quante cazzo di cose spara questa qua. Vuoi vedere una cosa divertente? Sì vediamo. Flescia. Perché? Puoi flesciare dove vuoi. Ah. Non era divertente? Sì. Così divertente. Che adesso me la sciolgo. Nooo non me lo sono sciolto prima. Peccato. È arrivato bigger. Vediamo guarda guarda guarda. Voleva! 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 Oh my god. Guarda guarda ora me lo sciolgo. Ho la ultima. Whenever you want. La mia ultima che c'è già un po' però non ce l'ho ancora. Non ce l'ho ancora. Lo so. Ok facciamo avanzare a mania neon. The main on. Oh oh oh. Boom. No peccato. Se vedi che mettono delle trappoline e delle cose là che abbiamo messo noi per il mando prima toglierle. Ho la ultima. Ho la ultima. Ma io no. Bene. Voleva spervera. No. 10 secondi per l'ultima ce la faccio. Voleva! Comunque grazie il tuo scudo mi è salvato con un bel po'. Non so. 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 Stai facendo il cazzo. E' un cazzo. E' un cazzo. E' un cazzo. Tanto è un cazzo. Pum. Pum. Pum l'ho preso. L'ho preso. Non so. Non so. Non so. Non so. Per pochissimo. Da nazionatore la torre. La torre. La torre. Sta arrivando. Di che sono confusa. Non ho comprato co. E' un casino. Metto la torre bastione del nome. Il flam. Metto anche io il cotto del flash. Si. Come vuoi. Non provo a difendere. Ma sono ancora. No. Ma ci sono cose raccine un altro. Anzi ancora un altro. Eh quanti cazzo ce ne sono. Voleva. Finiti. Benvenzione. No la torre è stata distrutta. Ai. Dario. 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 Non ho zoniato. Perché non hai zoniato. Perché ero zonato. Comunque la cosa è il flash inutile. Divertante. Punto. E basta. Non serve a niente. Voleva. Cosa stava. Voleva. Non ho preso soltanto per dimostrarti quanto è divertente. Essere inutili. Eh. Beccato. Uh. Zona flash. Oh. Pum. Ho visto cosa serve la zona flash? Voleva. 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 What the fuck? I am a cali. Voleva. Voleva. I am. I am. I am. I am. Fa che inizia. Sato quello. Ma cosa è che da dalcespuglio. C'è qualcosa che da alcespuglio qualcosa. Voleva. Ma cosa è che dalcespuglio. No vedi. Hai visto anche tu. Sì. Ah. La cosa che potenza è minione. Cazzerelli. Strono. Eh. 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 è stato morto sono morto sono morto scherzando trova la zona bastione della tempesta ho perso perso prendi bastione della tempesta a posto la zona flash bastione della tempesta per manco si ce l'ho però bene il mio piede no così perchè siamo trattati di guarda per dove sono adesso mi incazzo muori stronzo ma io devo prendere ma io prendo posizione della torre quindi io prendo la parte dobbiamo venire venire il massimo pieno su lo spiega non è così tanto il minimo la che potenza o questo tipo di potenza e migliori dobbiamo prenderlo noi dobbiamo prenderlo il primo quello for attacco poi è facilissimo un coperto di piedi ma il 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 la la non corosimio ti vinciano davvero esercito ciò che mi resta u boom una come ho fatto per i lati perché auto attaccata ora auto attaccato la tizia prima che morisse per questo fatto a questo lega continuo a qualcuno ha preso ma perché perché l'hai fatto cicciona non mi ha non è terra quella tizia carmona oma di star carmo o non vuole stato così posso ricarichiamo comunque prendi bastione della tempesta da più da dubbi ma riprende bastione della tempesta che aveva il volante da una torre fammi far pusciare non datemi non datemi mf mf faccio dimostrato vincere vincere mf ammissata la mia ultima maniera stratosferica sto caricando anche noi 2.3 quanti sono ancora 2.000 5 minuti abbiamo vinto cazzo cazzo no 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 che il cinema grande mazar però sto morendo io voleva no ha deciso perchè cicciona esatto voglio fare vendi così mario no 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 va bene gli temi che mi sono preso adesso quindi quando vedi che fanno tanto ragnato dalle torri usa bastione della tempesta lo so ho letto bravo eh 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 guarda che hanno paura di me questi eh 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 però sono lento oh testa di micchia 3 minuti e 30 secondi abbiamo ancora 2 torri vai no per pochissimo uno sfutto di vita da nazione io mi sto per rifinire la seconda volta di seguito è una stessa partita la luce mi sa che abbiamo perso l'ario no no non abbiamo perso abbiamo vinto mancano 3 minuti cos'è questo call down non può essere di nuovo immortale per quel call down oh testa di micchia non c'ho le skill un attacco base ho avuto la passiva spero no non è passiva perchè speri perchè altrimenti è una cosa triste seppure sono state iniziando a far danni a di a di che tra il resto e tristezza e tristezza hai visto quel vedere esplodere esatto volevi guarda la sua fascina tenera covedo un gol vuoi vincere ehm mi spiace ma perdi mi sorry bro i'm sorry bro hello hello pietra pietra hello ops sono morto e beh dai lo dai che vinciamo minchia vai alla liberati dai minion 5 4 3 2 1 minuto minuto abbiamo vinto davvero pum dai 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 pum pum è divertente per averci messo io rendi metto il mortale il mortale però io tengo questo mortale perfetto timor 4 no dai vai vai no alberto no no è una cattiva ella o trenti secondi dai 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 mortale quattro trenti secondi trenti secondi trenti secondi trenti secondi trentici 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 10 9 8 8 7 6 non ci credo non ci credo 3 3 e poi si va quindi abbiamo perso del tutto trentici 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 titoli trentici trentici numbate visite tai pio trentici inside sud trentici pedale commando box